Questo spettacolo è stato realizzato in esclusiva per il Comitato della Società Dante Alighieri di Città del Capo. Ecco alcune parole di saluto della dottoressa Simonetta De Paoli, la Presidente. Benvenuti a questo appuntamento con la lingua, la poesia e il bel canto. La settimana della lingua e cultura italiana quest'anno è intitolata a Dante Italiano, a celebrazione dei 700 anni dalla scomparsa del sommo poeta. Ci sarebbe piaciuto moltissimo poterci ritrovare tutti insieme a teatro, a godere dello spettacolo di bel canto ensemble, ma a causa delle restrizioni abbiamo scelto di proporlo in formato digitale. Ringraziamo la compagnia che si è prestata con grande professionalità a registrare questo evento per noi e speriamo di poterli invitare presto a Città del Capo per conoscerli dal vivo con una nuova produzione. Ringraziandovi vi auguriamo una buona visione. ? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e sono ora, Oh, e a tutti. mentre a tutti. come fa, come fa, come fa. e a tutti. e a tutti. sui piacere sui piacere, e a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e 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 a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. come corpo morto. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 che, a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. che, a tutti. 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 la che, 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 a tutti. a tutti. che, 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 tre, a tutti. a tutti. che, che, a tutti. ci, e, e, per, e, con, e, che, e, 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 che, e, e, che, da, e, 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 , e, , e, 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 e,